Fuori pericolo il piccolo di 15 mesi che aveva ingurgitato un pezzo di hashish del padre. A 36 ore dall'accaduto il bimbo è sveglio e risponde alle stimolazioni dai medici, tra le mura del reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. La prognosi resta riservata, dicono i medici dell'unità ospedaliera di anestesia e rianimazione, diretti dal primario Raffaele D'Amato, ma è un prassi precauzionale. Il bimbo di Mariconda sta meglio.